Va bene? Dai, facci una foto. Ok. Ah, sì, lì. Pronti? Ma vi mettete dietro la vela? La vela va bene così. Ma vi fa ombra. E dai, capitano, forza, fidati. Polaroid 600 è un'esperienza nuova nella fotografia. Ma... Però... Oh! E certo, il sistema Polaroid 600 trasforma una brutta luce in una bella foto, così. Nuova Polaroid 600 dosa luce. Con qualsiasi luce, senza problemi di luce.